Scure tattica Camp Hawk M48 Fodero in cordura, bullonato, passante per cintura Scure in acciaio inox Manicatura fissata da tre bulloni Impugnatura antiscivolo con incavi per non far scivolare via la mano Foro passante per eventuale cordino Estremamente appuntita e affilata La manicatura è un materiale molto resistente, composito E' piccola ma molto ben maneggevole